Benvenuti amici! Venerdì, tempo da dedicare alle offerte della settimana. Settimana scorsa ho fatto uno speciale hardware, questa settimana è una puntata più normale con diversi prodotti, però ho trovato diverse chicche, quindi se vi interessa l'hardware vi consiglio di andare a vedere il video di settimana scorsa. Mentre prima di partire vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare tutti i link dei prodotti che vi presenterò fra poco. Partiamo! Per iniziare un prodotto particolare, un mix tra una fitness band e un auricolare bluetooth, parlo del Huawei Talkband B1, venduto al 50% di sconto, prezzo finale 60€, niente male. Dopodiché passiamo a un mouse, questo prodotto che si avvicina di più all'universo dell'hardware, un Logitech MX Master, quindi un prodotto molto aggiornato, molto economico, molto molto bello, 31% di sconto, 70€ prezzo finale. Se state cercando una fotocamera, c'è questa Sony da 20 megapixel con zoom da ben 50x, quindi molto interessante questa caratteristica, venduta al 34% di sconto, prezzo finale 250€. Mentre ho trovato anche uno smartphone, uno Yotafone, quindi uno smartphone Android, la cui peculiarità è avere nella parte posteriore un secondo schermo di tipologia e-ink, che permette di visualizzare le varie informazioni, da un libro utilizzato come un normale lettore e-book, a altre informazioni che permette di risparmiare la batteria, 47% di sconto, 399€ prezzo finale, niente male anche in questo caso. Mentre se siete degli sportivi, un paio di auricolari Walkman, la cui particolarità è avere tutto all'interno dell'auricolare, con in più anche un telecomando da dito, da sedito proprio sul dito come se fosse un anello per controllare la musica mentre state correndo, 27% di sconto, prezzo finale 132€. Questo invece è un prodotto che mi è stato richiesto, soprattutto per chi vuole stampare, stampare veramente molto, è una stampante laser multifunzione, quindi anche con scanner e funzioni avanzate, interessantissima perché il prezzo è 30% di sconto, prezzo finale sono 75€, quindi se stampate molto questo è il prodotto che fa per voi. Mentre se cercate un auricolare Bluetooth, vi consiglio questo modello Blue Dio, venduto al 57% di sconto, prezzo finale 29€, un prodotto veramente molto molto apprezzato su Amazon, con tantissime recensioni positive, quindi sicuramente un prodotto interessante. Rimaniamo nell'ambito dell'audio, e passiamo a questo paio di cuffie sovraurali, sempre Bluetooth, vendute al 30€, cioè 63% di sconto, anche in questo caso molto molto apprezzate, c'è in diversi colori, come il prodotto precedente. Se invece volete alzarvi di livello, rimanendo sempre nel campo dell'audio, c'è un paio di cuffie wireless della Sennheiser, con ricettrasmettitore, il classico prodotto ottimo da abbinare alla TV, è ottimo anche il prezzo perché 55% di sconto, prezzo finale 50€. Mi avvio al finale con un altro prodotto che mi è stato richiesto, in questo caso un portatile, o meglio un 2 in 1, quindi tablet con tastiera, quindi un mix tablet notebook, l'Hatcher Switch, venduto al 13% di sconto, 260€ il prezzo finale. Mentre, ora andiamo a chiudere con un gadget, soprattutto se siete amanti del film Star Wars, non dico niente, è questo. Grazie ragazzi per avermi seguito, vi ricordo che tutti i link dei prodotti che vi ho presentato in maniera sommaria qui nel video, li trovate qui sotto in descrizione per approfondire. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, se avete qualche dubbio potete scrivere qui sotto nei commenti, se no vi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo negli altri video. Ciao!